Si sono conclusi ad Aurigo in Valle Impero i festeggiamenti in onore del patrono San Paolo presso l'omonimo santuario. Il santuario di San Paolo di Aurigo è l'unico edificio religioso dedicato esclusivamente all'apostolo delle genti in tutta la regione. Sabato al mattino è stata celebrata la messa solenne da Don Danilo Galliani, arciprete di De Guiglia, su invito del parroco di Aurigo, Don Jean-Pierre Vinci Guerra. Animata dalla corale parrocchiale, nel tardo pomeriggio si sono tenuti i vespri solenni con la processione alla presenza di numerosi fedeli, delle confraternite di San Giovanni De Collato e Santa Caterina di Alessandria, del sindaco Luigi Nellerbe e del suo vice Pier Carlo Gandolfo. Per quanto riguarda la sagra notevole è stata l'affluenza di pubblico che ha preso parte alle serate dedicate al panzarello e alla trippa. Sabato sera si è addirittura registrato il record di presenza degli ultimi dieci anni per la soddisfazione dell'associazione tra i campanini presieduta da Roberto Ferrari e del sindaco. L'estate aurichese proseguirà con un nutrito calendario di appuntamenti e culminerà a settembre con la festa della Madonna Adolorata, la terza domenica del mese.